Ed eccoci qua carissimi amici, amici voi, amico di cuore, la persona che è con me perché è un oncologo con cui abbiamo vissuto parecchi anni in ospedale, uno in un piano di sotto e uno al piano di sopra dove c'era il laboratorio analisi e come dico a volte abbiamo mangiato tutti e due pane e ospedale per più di 40 anni e quindi in una qualche maniera abbiamo qualche conoscenza di quella che è la situazione sanitaria e ospedaliera. Ma oggi vogliamo parlarvi di una cosa importante perché il dottor Ruggero Ridolfi, intanto grazie di aver accettato questo invito, si occupa da tantissimo tempo come oncologo di prevenzione primaria, semplifico per farmi capire. Nel senso che si occupa molto, fa parte di un'organizzazione di medici per l'ambiente che ha una sigla che si chiama ISDE e fa parte anche di un'altra associazione di oncologi, la ARRT di Cesena. Ci spieghi brevemente anche perché le sigle non sono spiegate nel titolo. Allora, ISDE è un'associazione nazionale ma anche internazionale dei medici che si occupano dell'ambiente e dell'ambiente che crea i presupposti purtroppo per tante malattie con l'inquinamento, quindi della tutela dell'ambiente. L'associazione invece ricerca romagnola tumori di Cesena è un'associazione che si è sempre occupata di prevenzione primaria. La prevenzione si divide in primaria e secondaria. La prevenzione secondaria è l'indagine e gli esami che servono per fare una diagnosi precoce come la mammografia, gli screening, quindi tutte queste procedure per trovare presto il tumore e poterlo curare e guarire. La prevenzione primaria invece è sapere individuare le cause di una malattia per poterle poi eludere, per poterle poi evitare o diminuire. Quindi in questo caso fare prevenzione primaria per i tumori è indagare quali sono le cause dei tumori per poi cercare di diminuirle e di evitarle se è possibile. Ecco, senti, noi tanti anni che ci conosciamo, agli inizi le cause di tumore erano pressoché sconosciute, si davano quasi che fosse una sfortuna il fatto di avere un tumore. Spesso questa diagnosi era in fausta e quindi da passare da una situazione in cui l'oncologia nasceva, io sono entrato in ospedale nel 71 quindi quando il nostro Dino Amadori era in uno scantinato a fare le prime mammografie. E io ero con lui all'inizio. Eravamo tutti un po' suoi figli in una qualche maniera e anche del professor Martuzzi che ricordo sempre con tanto affetto. Da un momento in cui tutto ci era quasi sconosciuto. Arrivare ad oggi dove tu riesci in una qualche maniera ad individuare delle cause predisponenti, quantomeno al tumore, ne è stata fatta di strada. Sì, non solo predisponenti, ci sono cause che sono dirette, uno per tutti, l'amianto che tutti ormai conosciamo e che però cause per le quali ci è voluto anni e anni e anni di, non dico di studio solo, ma di consapevolezza da parte di tutti del fatto della loro nocività. Cioè dell'amianto c'era qualcuno che aveva già scritto alla fine dell'Ottocento che era nocivo per malattie polmonari. Ecco, e quindi l'amianto è stato messo al bando un secolo dopo, ci è voluto cent'anni perché fosse messo al bando. Perché? Perché l'inquinamento e tutte le procedure diciamo anche del successo che c'è stato con l'industria, con il progresso, sono tutte procedure che hanno portato comunque a un grande aumento dell'inquinamento che stiamo pagando anche con i cambiamenti climatici, l'aumento di temperatura e tutto quello di cui si parla oggi. Le due cose vanno di pari passo. Ma soprattutto mi vengo a pensare, parlando proprio di te, non tutti gli oncologi sono così fortemente schierati e in generale non tutti i medici. Diciamo che di fatto malattia vuol dire pillola. Pochi fanno un discorso perché a un certo punto della tua vita professionale di oncologo, peraltro ti occupavi di melanomi, ti occupavi di problemi veramente emergenti anche all'epoca, decidi di dedicare la tua vita professionale in tutto quello che potevi, una parte, insomma, a parlare di inquinamento ambientale, di cause predisponenti dei tumori o di cause di tumore che provengono dall'ambiente. Ma perché a un certo punto, diciamo all'inizio degli anni 2000, sotto diversi tipi di spinte, mi sono reso conto che non solo io, però un gruppo sparuto di oncologi hanno capito che la guerra contro il cancro si stava perdendo. Cioè c'è un editoriale di un famoso epidemiologo americano, che dice che la guerra contro il cancro, che fu declarata da Nixon nel 71, dicendo nel 2000 sconfiggeremo il cancro, in realtà la guerra si sta perdendo perché l'incidenza, cioè il numero dei nuovi casi per anno, continua ad aumentare. Abbiamo, allora, gli oncologi, quelli un po' più furbetti hanno incominciato a dire, beh però noi con le cure possiamo rallentare la malattia, possiamo guarirne una parte e indubbiamente dal punto di vista della terapia, della prevenzione secondaria, cioè scoprire presto il tumore per poterlo poi operare e guarire, sono stati dei successi grandi, nel senso che adesso una gran parte di pazienti guariscono, sono guariti di tumore. Cioè sarebbe come dire, mangio salato, tanto dopo prendo l'ipertensiva, l'antipertensiva. Ecco, sì, però io la domanda a volte dei pazienti, delle persone mi chiedono ma quando è che trovate la cura per il tumore? A parte che la cura per il tumore sarà difficile che si trovi perché i tumori sono almeno di 200-300 tipi diversi. E l'altro aspetto è, ma dico, lei si preoccupa di trovare la cura per il tumore? Non sarebbe meglio dire quando è che riuscite a evitare il tumore? Io avrei più piacere di non ammalare di tumore, piuttosto che, va bene, sapere che se mi ammalo di tumore ci può essere una cura. Cioè è proprio sbagliata la domanda, insomma, capito? Quando anche comunque sicuramente le cure poi non è il tema di oggi, ma mi piacerebbe molto approfondire con te anche il discorso del melanoma, insomma, ci sono per carità, eccetera, però il tumore è un evento molto, molto pericoloso per la persona. Cioè è meglio che non ci sia. Sì, è un dramma per chi riceve quella diagnosi, è un dramma per i familiari e per le persone che gli sono attorno, è un dramma per tutti avere una diagnosi di tumore. Poi dopo ci sono le diverse differenze, nel senso che magari se può essere curato e guarito va bene, però vediamo tanti anche personaggi illustri recenti della cronaca quotidiana che purtroppo muoiono di tumore anche ad età molto, molto giovane. Ecco, se possiamo vedere, Carlo, la prima diapositiva, la mettiamo in primo piano che mi sembra una diapositiva introduttiva interessante. Ecco, qui non è proprio la prima, ma qui abbiamo un tuo contributo su questo discorso proprio dell'ambiente, no? Sì, perché è uscito, vedete, pubblicato 10 gennaio 2023, questo articolo che era già uscito due mesi fa per via online, comunque adesso è proprio pubblicato, uno studio fatto dall'Università di Bologna e quella di Bari con anche il Centro Nazionale Ricerche, il CNR, questo studio ha usato l'intelligenza artificiale che è il massimo, diciamo, della potenzialità epidemiologica della potenza di calcolo massima per andare a confrontare su 23 tipi di tumore, quindi tutti i tumori più importanti, principali, le ha confrontate con 7 variabili socio-economiche e quelle che sono considerate gli stili di vita, il fumo, l'obesità, la cattiva alimentazione, la sedentarietà, lo stato economico, eccetera, e con 35 tipi di inquinamento ambientale, 35, quindi voi pensate quanti incroci ci sono con queste variabili, una cosa che non si potrebbe fare a mano e neanche con un computer semplice. Allora, questo studio fatto sui dati Istat di tutte le regioni e province italiane, quindi con tutti i dati d'Italia, ci dice che in Italia la mortalità di tumore è più alta nettamente, in maniera statisticamente significativa, là dove c'è inquinamento. Questo, anche se in quella area lì, la vita, le stili di vita, le altre concause sono quelle migliori, quindi non è tanto pubblicizzati stili di vita che vanno educati e che indubbiamente servono. più letale l'ambiente del fumo di sigaretta, dell'ipertensione, dell'iabete, dell'obesità, per tumore è l'inquinamento. In pratica la prima causa di mortalità, al di sopra di tutte, è quella dell'aria. L'inquinamento dell'aria è la prima causa che aumenta l'incidenza dei tumori. Ecco, Rogero, ti volevo chiedere una precisazione, perché inquinamento è un termine a cui, purtroppo, abbiamo fatto l'orecchio e delle volte sai, è come dire, no, ormai abbiamo fatto l'orecchio, ma l'inquinamento poi, quali sono gli inquinanti invece ambientali più importanti? Allora, loro hanno definito proprio l'inquinamento dell'aria, l'inquinamento dell'aria è ben definito, dal particolato PM10, PM2.5, sappiamo che purtroppo l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva dato già dal 2000 delle indicazioni di 10, adesso non vorrei sbagliare le unità di misura, 10 parti per milione come limite e l'autorità europea aveva stabilito che fino al 2010 si poteva tenere i 50, perché altrimenti non ci sarebbe stata città che era in linea, ora i 50 sono ancora lì, cioè dal 2010 si doveva progressivamente Dopo 13 anni? Dopo 13 anni ancora, quando ci dicono siamo entrati nella norma, la norma è più del doppio di quello che vorrebbe l'organizzazione della sanità per la qualità dell'aria, perché il particolato, queste microparticelle invisibili entrano nei polmoni e dove c'è inquinamento si legano con i prodotti della combustione che sono cancerogeni, questo è proprio per definizione. Il particolato in sé porta poi degli inquinanti, tipo i metalli pesanti di cui parleremo. I metalli pesanti, ma di ossine e quant'altro. Di cui parleremo nella seconda parte della tradizione, perché è talmente interessante quello che dici che io mi sono distratto e stiamo andando fuori tempo e Carlo dopo si arrabbia. Però nella seconda parte non ci lasceranno, perché quel particolato tu l'hai studiato e l'hai studiato poi qui nella zona di Coriano, tanto per dirne una. A te Carlo e Resia. Ed eccoci qua con il dottor Rogero Ridolfi, oncologo, collaboratore dell'ISDE, che è un'istituzione internazionale di medici che stanno lottando contro le cause ambientali delle malattie, in particolare il cancro. E' anche della RRT, che è un'associazione invece di Cesena, che si occupa sempre di aspetti degenerativi in relazione all'ambiente e malattie degenerative. Ora è interessante quello che sta dicendo Ruggero, perché entriamo in un discorso meno generico di quello che si faceva una volta. Ora noi parliamo di particelle trasportate dall'aria e quindi occludono gli alveoli, ma attaccate a queste particelle ci sono le cause di molti dei tumori che noi abbiamo. E' così Ruggero? Eh sì, purtroppo è così. Lo studio di cui ho parlato prima ci dice che la prima causa che aumenta statisticamente significativo l'aumento dell'incidenza dei tumori, del numero dei tumori in Italia, dipende proprio dall'inquinamento dell'aria. E l'inquinamento dell'aria fondamentalmente è dato dal fatto che il particolato, quel PM10 e ancora di più il PM2.5 che è molto più fine e che entra negli alveoli del nostro corpo ed entra anche al di sotto del PM2.5, quelle particelle passano anche la barriera degli alveoli e quindi entrano nel torrente circolatorio, quindi vanno a finire in tutto il nostro corpo, quelle particelle si legano nell'aria inquinata ai prodotti della combustione. I prodotti della combustione sono diossine, sono ipa, idrocarburi policiclici aromatici, sono metalli pesanti, alcuni di questi dei quali è riconosciuto la potenzialità cancerogena. Ecco, siccome volevo entrare proprio nel vivo perché fortunatamente... E quindi è questo che ha decretato il fatto che l'aria inquinata è cancerogena, cioè la IARC di Lione ha stabilito che l'aria inquinata è... Ma non è solo per i polmoni? Ma non è solo per i polmoni, ovviamente i polmoni sono il primo target su cui c'è l'aumento della patologia. Su questo discorso, Ruggero, tu... Ma aumentano anche i tumori della mammella, ci sono molti lavori, molti tumori, i tumori cerebrali anche sono in parte prodotti dall'inquinamento ambientale, dell'aria in particolare. Quindi sono molti e le particelle, i prodotti della combustione li abbiamo per tanti motivi, dal punto di vista industriale, dal punto di vista di inceneritori, dal punto di vista del riscaldamento con legna o carbone o anche gas e poi dallo scappamento delle macchine che vanno a benzina o a prodotti di petrolio. Sì, non parliamo degli aerei. Gli aerei, le navi non ne parliamo. Senti, proprio per scendere sul pratico, parlasti di un esperimento che hai fatto proprio nell'inceneritore di Coriano, nella zona attorno all'inceneritore. Ma lì è stato uno studio che poi abbiamo pubblicato, che è stato condotto nel 2017, quindi sono già 5, ormai 6 anni, che aveva poi una funzione all'inizio solo di far capire alle persone che non si poteva proprio stare molto tranquilli con l'inquinamento atmosferico perché nel nostro corpo entrano anche gli inquinanti e se entrano gli inquinanti si sa che i metalli pesanti finiscono nei capelli, nelle unghie, perché il nostro corpo cerca di eliminarli e quelli sono le unghie e i capelli, su un proprio modo per eliminare queste sostanze. Per cui facciamo, con l'aiuto dei quartieri di Forlì, facciamo una propaganda dicendo proviamo a vedere cosa troviamo nelle unghie dei bambini di Forlì. non era specifico sull'inceneritore, ovviamente quella è una delle fonti di inquinamento sicuramente che abbiamo a Forlì perché ne abbiamo due che sono a poca distanza dal centro storico. E ci aspettavamo così che ci fosse un'adesione, ma pensavamo di qualche decina di persone, di bambini, e invece ne abbiamo, diciamo, abbiamo ottenuto le unghie che hanno tagliato le mamme presso i vari centri, nei vari quartieri, 220 bambini. e quindi abbiamo analizzato le unghie di 220 bambini di Forlì, suddividendoli nelle quattro aree principali, cioè nord, sud, est, ovest. e si è visto in maniera anche qui inequivocabile che le due aree di nord-est dove ci sono gli due inceneritori e anche, diciamo, la produzione industriale hanno nettamente più metalli pesanti rispetto a chi vive nelle aree di ovest ed est, di ovest e sud, chiedo scusa. Ecco, tra l'altro, volevo chiederti anche dal punto di vista fisiologico, i metalli pesanti si legano anche con le ossa in maniera stabile, per esempio? Sì, dopo, alcuni sì, alcuni sì, però... Io ricordo il mercurio sicuramente ha... Il mercurio, anche il piombo, sì, 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 sì. Cioè, voglio dire, non è che, perché hai detto bene, il corpo cerca di smaltirli. Certo. Però, non ci riesce... Però, li mette dove si legano, ecco, dove trovano... I capelli, la cheratina, eccetera. Ma sai, i capelli, almeno quelli crescono e poi comunque è un modo per espellere. Quando vanno nelle ossa? Dopo, anche lì, dipende ovviamente, dopo da tutto il metabolismo di quel corpo, capito, se... Quanto calcio c'è, eccetera, perché dopo è tutto un criterio di... Di pressione, di quanto... Se una poco calcio e invece arriva il piombo, ci va il piombo al posto del calcio. Ti volevo chiedere un esempio pratico. Se io fossi un vigilo urbano che deve stare tutto il giorno a dirigere il traffico, ho la possibilità di smaltire questo accumulo, diciamo, attraverso una sana attività fisica, un'alimentazione che favorisca la flora microbica intestinale, ecco, oppure ho poca speranza? Ma intanto, io credo che la prova che abbiamo fatto con la pandemia di tenere una mascherina, se fossi un vigilo urbano, credo che sarebbe meglio tenere una mascherina che magari ti evita, se non tutto, te ne evita una parte di quel particolato, di quelle polveri che sicuramente vai a inhalare. Dopo mi fai una domanda a cui io non so rispondere, qui bisogna sentire forse da un fisiologo, ma... Però è indubbio che se io favorisco gli organi e montori, se io favorisco... Certo, ecco, allora, diciamo pure, se tu intanto, oltre a quello, fumi, mangi... Aggravi... Aggravi con pasti pesanti e colesterolo, eccetera... Carlo, c'erano altre diapositive, possiamo vederle perché il tempo stringe... Probabilmente non aiutano. In modo che vediamo se riusciamo... Questo è pesticidi cancerogeni nelle polvere delle case. Questo è un altro studio che è uscito da pochissimo, adesso io ho trovato l'articolo... L'articolo è uscito prima, nel 2021, però l'ho ritrovato nelle... E' interessante il discorso della riproduttività, perché in effetti stiamo vedendo una diminuzione di fertilità nella popolazione. Eh, ma infatti c'è questo problema anche, ci sono solo, non esistono solo i tumori. Se ci spostiamo al discorso dei pesticidi, che vale anche per il discorso dello studio precedente, perché anche lì hanno messo... Ci sono i pesticidi dopo un certo punto come causa. Però, se andiamo a parlare dei pesticidi, questo studio qui ci dice che è uno studio fatto intanto a livello europeo, quindi non è solo italiano, anche fino all'Argentina credo che abbia partecipato. E quindi è molto, molto grosso come studio e sono andati a vedere qual era lo stato un po' di salute e di bontà dell'ambiente degli agricoltori. E lo studio ci dice che hanno trovato da 7 a 37 pesticidi, spesso con valori superiori a quelli che sarebbero indicati, e li hanno trovati anche nelle polveri delle case degli agricoltori. Quindi questa gente, e non solo loro, ma anche i loro familiari, si respirano parti di questi pesticidi. La polvere della casa, in giallo vedete nel cartello ci dice, trovate nelle case degli agricoltori, risulta cancerogeno o potenzialmente cancerogeno, e il 61% potrebbe essere di queste sostanze pericolose anche per la riproduttività. Ecco, io purtroppo il tempo è tirano, mi piacerebbe avere un'ora di tempo con te, però avremo modo di estendere questo argomento ai mercoledì della salute a Castrocaro Terme, Terra del Sole, al Palazzo del Pretorio, dove abbiamo invitato il dottor Ridolfi. Adesso non ricordo se è il 17, mercoledì 17 alle 9, perché lì sarà anche disponibile per domande dirette, a cui lui, essendo molto interattivo, è molto disponibile a rispondere. Per adesso ti ringraziamo, abbiamo, come devo dire, buttato un po' il sasso nell'acqua in uno stagno. È un masso. È un masso in uno stagno. Speriamo che non sia l'ultima trasmissione, perché ne faremo ancora, perché ci crediamo. Grazie a te Carlo Iresia. Grazie a voi.